Cari lettori e lettrici, la novità letteraria che sto per presentare è un romanzo di narrativa contemporanea che mostra la bellezza e la complessità dell'animo umano, rivelando la bontà che può essere presente anche nelle circostanze più avverse. Leggere questa storia è un'opportunità per essere ispirati dalla forza dell'essere umano, per riflettere su temi significativi e per scoprire la bellezza nascosta nella diversità e nell'umanità. La trama del libro Noi non siamo come voi dello scrittore Marco Purita, casa editrice 96 Rude La Fonten, è la seguente. Sole è una ragazza brasiliana, libera come l'amore. Ha trascorso i suoi trent'anni tra orfanotrofi, adozioni e comunità psichiatriche. Labrianza. Torino. Sole carica di energia positiva le persone che incontra nella sua vita. Amore. Disabilità. Anarchia. Sole rivela la bontà d'animo nascosta in ognuno di noi. Questa è la sua storia. Grazie per l'attenzione e buona lettura. Mi piacerebbe sapere cosa ne pensi della trama del libro presentato. Se hai voglia di condividere il tuo pensiero lasciami un messaggio. Celebra la magia della lettura condividendo questo video e aiutami a diffondere l'amore per i libri. A te non costa nulla. Per me sarebbe un bel gesto di gratitudine. Ricorda, ogni piccolo gesto può fare la differenza. Per non perdere le novità letterarie iscriviti al canale.